Prima di iniziare a lavorare con le Particles vediamo come personalizzare velocemente 3DXMAX per lavorare con il Particle Flow. Questa versione del 3DXMAX è una versione relativamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto nei corsi precedenti poiché è comunque caratterizzata da un colore molto più chiaro. Ho deciso di utilizzare un colore chiaro proprio per rendere molto più visibile l'elaborazione di alcuni effetti con il Particle Flow. Una prima cosa che andremo a fare sarà quella di andare a rendere galleggiabile il nostro Command Panel. Quindi per renderlo galleggiabile tasto destro DOC e posso scegliere come dove posizionarlo se posizionarlo a destra dove è già adesso oppure a sinistra oppure ancora sempre da tasto destro in una parte vuota del nostro Command Panel quindi naturalmente se è più piccolo dobbiamo andare a cercare un punto ben preciso possiamo renderlo galleggiabile quindi Float ed esso sarà di fatti galleggiabile nello spazio. Questo perché in questo modo io posso avere un'area di lavoro maggiore proprio per la viewport e quindi posso avere un maggiore spazio per elaborare i miei effetti. Un'altra cosa che possiamo andare a realizzare sicuramente possiamo anche andarlo a riagganciare se vogliamo tranquillamente alla sua destra dove sempre un altro trucco per andare a nascondere il nostro Command Panel che è stato introdosto dalla versione 2010 di 3DX Max è il Minimize. Il Minimize permette di andare a nascondere e quindi far comparire il Command Panel soltanto andando trascinandoci sopra il mouse e quindi poterci andare a lavorare tranquillamente nascondendolo di lato. Io preferisco non nasconderlo in questo modo poiché in alcuni casi crea delle difficoltà nella lavorazione quindi preferisco tranquillamente renderlo galleggiabile. Una volta che l'ho reso galleggiabile posso andare a personalizzare la combinazione da tastiera che andrà a far apparire scomparire il mio Command Panel. Quindi Customize, Customize User Interface e alla voce Keyboard possiamo andare a cercare Command Panel. Se io clicco con la C automaticamente mi porto al capitolo inerente la C. Command Panel Tool, posso segnare una combinazione da tastiera per poterlo attivarlo e disattivarlo. Io come combinazione da tastiera preferisco segnare il primo tasto che troviamo nella tastiera in alto accanto ai numeri sopra le lettere quindi il tasto con questo simbolo, questa slash al contrario sostanzialmente. Che però è già attivata al Sound Tool, ma io non utilizzandolo praticamente mai, per comodità lo posso tranquillamente applicare. Quindi Assign. Altra cosa che possiamo vedere è sicuramente il Play. Quando abbiamo il Play Animation, quindi da P, abbiamo la slash. Ma la slash nella tastiera italiana corrisponde al tasto numero 7. Quindi quando io vado a premere il tasto numero 7 in realtà vado ad attivare delle statistiche che qui è alato nella mia viewport. di fatti se io premo il tasto 7 vedo che vado ad attivare le statistiche. Ma queste statistiche al momento non ci interessano o comunque non sono di nostro interesse. Di conseguenza io posso andare a applicare una combinazione di tasti come per esempio Control più il nastro tasto, quello che abbiamo utilizzato anche per far apparire e scomparire il Command Panel. Perché preferisco applicare quindi Assign? Perché preferisco applicare una combinazione di tasti al Play? Qui ho fatto un po' di casino, va a remossa, Remove e la riapplichiamo. In questo modo è soltanto lei e non anche quell'altra. Perché preferisco assegnare una combinazione da tastiera al tasto Play? Poiché io posso spostarmi poi nella timeline anche con il frame by frame. Quindi io posso tranquillamente sempre da tastiera con il tasto virgola e il tasto punto posso spostarmi frame by frame. Vedete che il time slider praticamente si muove e quindi possiamo tranquillamente muoverci senza aver bisogno di andare a cliccare i tasti che troviamo qui in basso. Questo è molto comodo anche quando andiamo in una visualizzazione più esperta, una visualizzazione per esempio con ctrl x da tastiera abilitiamo la visualizzazione esperta e questo è molto molto comodo. vi ricordo che per poter visualizzare la barra dei menu tranquillamente con il tasto da customize vediamo che con alt e 6 abbiamo la possibilità di visualizzare la main toolbar con tutti i comandi basilari che sono di 3ds max. Volendo possiamo anche andare a color abilitare il tema naturalmente light. Il tema light che io mi sono anche un attimino personalizzato poiché ho i roll out che sono di un colore diverso sono tendenti ad uno azzurrino per permettere una maggiore chiarezza proprio durante il nostro video corso. Chiudiamo e vediamo alcune combinazioni di tasti che sono utili durante la nostra lavorazione. naturalmente andiamo a verificare che con il tasto quello con la slash al contrario davanti al numero 1 vediamo che facciamo apparire e scomparire il nostro command panel. altre combinazioni da tastiera sicuramente utili sono quelle già conosciute come per esempio il q per selezionare il w per il comando select and move e per rotate select and rotate r per select and scale e così via. Tutte combinazioni da tastiera che comunque devono essere attive in base a questo nostro comando. Nella 2014 è stato introdotto anche un tools abbastanza utile che è il sitch bar con la x da tastiera possiamo andare a richiamare per esempio alcuni strumenti che sono alcuni modificatori che sono all'interno naturalmente di 3ds max. push posso applicare un push e andarlo a modificare sicuramente molto comodo durante la fase di lavorazione altro aspetto interessante è sicuramente sempre da customize preference aspetto abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti sotto viewport andare a scegliere il driver di lavoro non avendo sicuramente necessità di lavorare con una versione realistica possiamo tranquillamente impostare il driver che della direct 3d quindi non utilizzare il nitrous come è già impostato nelle ultime versioni in questa versione anche già impostato il gamma a 2.2 cosa che al momento non ci interessa poiché comunque non è di nostro interesse andare a vedere o comunque approfondire il rendering altro aspetto importante sicuramente sempre da customize customized unit setup per questi video tutorial io ho come unità di misura impostato il centimetro ma come visualizzazione utilizzerò quella generica poiché comunque ognuno di voi potrà avere unità di misura in base al progetto che utilizza quindi voglio far sì che la mia unità di misura utilizzata per esempio 1 generico sia uguale al vostro 1 della vostra unità di misura che utilizzate grazie